Attraverso i secoli lo Spirito Santo accompagna l'uomo nella propria esistenza richiamando l'amore e la misericordia di Dio. Così Papa Francesco prima della recita della Regina Celi. Prendendo spunto dal Vangelo del giorno, il Pontificio ha ricordato che nella vita del cristiano la solitudine non esiste perché Gesù c'è sempre vicino per mezzo dello Spirito Santo che ci guida nel modo di pensare, di agire, di distinguere tra il bene e il male. Non siamo soli. È il segno della presenza dello Spirito Santo e anche la pace che Gesù dona ai Suoi discepoli. Vi do la mia pace. Essa è diversa da quella che gli uomini si augurano o tentano di realizzare. La pace di Gesù sgorga dalla vittoria sul peccato. Sull'egoismo che ci impedisce di amarci come fratelli. È dono di Dio, è segno della sua presenza. Dopo la preghiera a Mariana, il Pontificio ha ricordato la conferenza internazionale sul tema lo sviluppo sostenibile e le forme più vulnerabili di lavoro al via dal 2 maggio a Roma. Auspico ha detto nel giorno in cui la Chiesa celebra San Giuseppe Lavoratore che l'evento possa sensibilizzare le autorità, le istituzioni politiche ed economiche e la società civile affinché si promuova un modello di sviluppo che tenga conto della dignità umana nel pieno rispetto delle normative sul lavoro e sull'ambiente. Grazie. 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 Grazie.